Non chiedetemi nulla di tutto ciò, io non so nulla più di quello che leggiamo sui giornali e spesso voi scrivete sui giornali, quindi mi dichiaro del tutto incompetente, anche lì un punto interrogativo. Sì appunto, lasciamo perdere, come mi fa piacere. Ma no, ma queste sono le cose, voi sapete benissimo che poi le decisioni concrete vengono prese all'ultimo e prima ci sono i cosiddetti ballon d'essai, cioè nomi che vengono lanciati in aria e poi cascano penosamente per terra. Ecco, siamo in quello a fare, ma no, ma il problema non si pone, non chiedetemi nulla di tutto ciò, io sono angosciatissimo, per conto mio, mi fate ancora queste domande, la mia angoscia cresce, abbiate pietà. Grazie, grazie.